Musica Tre attività commerciali, due in via Belbiscito e una in via Gesualdo Clementi, sono state interessate da un'attività intensa di controllo interforze coordinate dalla Questura di Catania ed eseguita dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dalle divisioni Polizia Anticrimine e Amministrativa, unitamente al personale del Corpo Forestale della Regione, della Polizia Locale Annona e degli operatori dell'ASPE e dello Spresal. Il servizio si inserisce tra le costante azioni predisposte dal Questore finalizzate alla tutela della salute pubblica, diverse le irregolarità riscontrate che hanno determinato l'elevazione di sanzioni per oltre 10.000 euro. In una trattoria di via Plebiscito sono state riscontrate diverse carenze igienico-sanitarie, irregolarità anche per un titolare di una macelleria in via Plebiscino, macelleria equina che aveva sistemato proprio davanti alla pottega un bracere, diversi tavoli e sedie per accomodare i clienti senza alcuna autorizzazione. Il servizio di controllo ha interessato il ristorante della vicina via Gesualdo Clementi dove sono state riscontrate irregolarità particolarmente gravi, reato di frode in commercio di prodotti alimentari, ad esempio. Si proponeva del tonno rosso decongelato venduto come fresco. Riscontrate numerose criticità igienico-sanitarie. L'attività di controllo ha interessato 14 persone tra titolari e dipendenti. Città di Catania nella zona della stazione che è stata interessata a controlli a tappeti nel centro storico e sanzioni per 5.000 euro anche dalla Legione dei Carabinieri Sicilia. Sono stati ispezionati diversi ristoranti tra cui uno in piazza Giovanni XXIII, un locale gestito da una donna di 49 anni e un altro esercizio in piazza Pandolfo di proprietà di una donna di 32 anni. Un'ulteriore ispezione riguardato in via Collegiata, un ristorante di un uomo di 43 anni, un minimarket in via Luigi Sturzo, un food truck in piazza Giovanni XXIII. Sono state elevate numerose sanzioni e sequestrati anche apparecchiature. L'attività è stata estesa anche per un controllo della strada, elevati 5 sanzioni e sequestrati due veicoli. Il bilancio dell'operazione è di un controllo di 45 persone e 26 veicoli e l'ammontare delle sanzioni supera 5.200 euro. Rubava anche le offerte in chiesa. I carabinieri hanno arrestato un ladro seriale. Se ne sono occupati i carabinieri della compagnia di Partinico, che hanno dato esecuzione ad un'ordenanza emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 35enne del luogo per accuso di furto aggravato. L'attività di indagini ha consentito di delineare un grave quadro indiziario. L'uomo sarebbe almeno responsabile di 5 furti messi a segno negli ultimi 4 mesi nel comune partinicese. Il malvivente sarebbe entrato in azioni diverse volte in attività commerciali e durante l'orario di apertura al pubblico avrebbe rubato il denaro presente nelle casse approfittando della distrazione dei commessi. Ma affargola al ladro persino una chiesa, della quale avrebbe sottratto le offerte dei fedeli raccolti e conservati nella sacrestia. Utilissimi gli impianti di videosorveglianza e alcune testimonianze raccolte da parte delle forze dell'ordine. L'indagato è stato ristretto presso la casa circondariale olorusso Pagliarelli di Palermo. Il senatore Antonio Nicita ha depositato una interrogazione per i ministri Picchetto, Fratin, Urso e Schillaci in merito agli eventi di ieri che si sono verificati nella zona industriale siracusana e che hanno interessato il territorio di Melilli, Città Giardino e Belvedere. Da quello che si apprende c'è stato uno sfiaccolamento nell'area industriale e sono cadute strane gocce di una sostanza oleosa che ha ricoperto le macchine, nelle case dei residenti della zona. Poco prima era stata notata una fitta nuvola nera che usciva da una ciminiera e dalla strada si sentiva un forte odore di idrocarburi bruciati. Si chiede pertanto ai ministri competenti che vengono messe in atto tutte le azioni possibili per identificare la fonte delle sostanze e valutare rischi per la salute pubblica. Sopravvissuti agli abusi, riconoscere, curare e tutelare è il convegno dell'associazione METER dalla parte dei bambini in collaborazione con l'ufficio Fragilità Servizio per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili che è organizzato sabato 5 ottobre 2024 in via Maucini a Pachino. Dall'abuso alla risurrezione, storie di vittime, sarà cura del responsabile sportello regionale dell'ascolto Don Fortunato di Noto presentare all'inizio dei lavori, alle 9.15 circa. Poi si proseguirà con la dottoressa Chiara Griffini, la psicologa forense e psicoterapeutica, si soffermerà sulla memoria traumatica, protezione e cura ed educazione. Si tratterà anche degli abusi nella Chiesa, prassi normativi e approcci ecclesiali da Giovanni Paolo II a Papa Francesco a cura di Don Andrea Zappulla, docente di diritto canonico e responsabile del Centro Ascolto per la tutela dei minori dell'Arcidiocesi di Siracusa. membro esperto anche del servizio regionale tutela minori. A moderare, sala giurista e vicepresidente dell'Associazione Imetar, l'avvocata Maria Suma. Si chiama Belliniana, omaggio al Cigno di Catania, la quarta edizione della rassegna direttamente promossa e organizzata dall'assessorato del turismo, sport e spettacolo della regione siciliana, che si svolgerà nel capoluogo Etteneo e a Messina dal 14 al 28 settembre prossimi, con una fitta serie di appuntamenti a ingresso gratuito su prenotazione dedicati a Vincenzo Bellini. Si comincerà sabato 14 settembre con un grande concerto alla Villa Bellini di Catania con il soprano Arrancatore, il tenore Grigolo e l'Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Marcianò, per poi andare avanti con altri 16 appuntamenti, tra concerti sinfonici, cameratistici, conversazioni, musica sacra, teatro, danza, nuove creazioni e grande repertorio. Al centro un'opera lirica in forma di concerto al Teatro Bellini di Catania, diretta da Fabrizio Maria Carminati. Fortemente voluta dal governo regionale e affidata alla direttrice d'orchestra Gianna Fratta, Belliniano, omaggio al Cigno di Catania, precedentemente Bellini International Contest, si realizza grazie alla collaborazione della città di Catania, di Messina e Palermo e delle più importanti istituzioni culturali dell'isola, Teatro Massimo Bellini di Catania, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro di Messina, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, la Fondazione Taormina Arte Sicilia, l'Università degli Studi di Catania, il Conservatorio Vincenzo Bellini, il Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina e Catania Summerfest e Arcidiocesi di Catania. Il ballerino floridiano Raffaele Rudilosso nel New Show di Enrico Brignani, i sette re di Roma. Il giovane e talentuoso performer del Siracusano dal prossimo ottobre ad aprile 2025 sarà uno delle otto ballerini che animeranno lo spettacolo dell'artista romano con le musiche del maestro Nicola Piovani. Enrico Brignano ha ripreso uno spettacolo del compianto Gigi Proietti, modernizzandolo e rendendolo più animato tramite coreografie che vedranno tra i protagonisti il ballerino, che dopo i primi due mesi al Teatro Sistine Roma toccherà varie città italiane, tra cui Catania e il prossimo marzo. Farà tappa dunque al Teatro Melotropolitano. Impaziente di iniziare questa avventura, si dice Raffaele Rudilosso, dopo la tournée spagnola con Pretti Human, quella italiana con Cigago, il musical, si mette in gioco entrando nel cast dei setter di Roma. Sarà prezioso lavorare anche con il coreografo come Tommaso Signorelli, una boccata d'aria fresca, uno scampio continuo di arte e creatività.